ciao a tutti buona giornata allora di cosa parliamo oggi oggi parliamo di forbici coltelli e facciamo anche un preambolo diciamo anche lo dico subito facciamo un preambolo anche sulla falce allora e tanti anni fa si usava soprattutto la falce perché 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 la falce diciamo più antica oggi come oggi penso che nessuno abbia anche la falce sarebbe quella che vedete con che in mano la morte praticamente oggi come oggi quasi nessuno è una falce per casa prima era una comunità diciamo contadina oggi come oggi negli appartamenti penso che falci per casa non ne abbiamo più nessuno allora una volta mettevano soprattutto la falce sotto il letto quando veniva quando c'era un matrimonio quindi la prima notte di nozze e andavano a preparare il letto e lo facevano di solito in quattro persone due uomini e due donne sistemavano cioè nel senso letto vabbè lo facevano in due letto si fa in due e non di più però poi lo scongiuro lo recitavano in quattro lo scongiuro era ve lo leggo perché diciamo che non vado in casa di gente che si sposa tutti i giorni e questo scongiuro veniva detto appunto cantilenando ed era proprio ed era questo allora ai quattro angoli son quattro santi benedite quattro santi figlio mio proteggete quattro santi a figlia mia con la falce taglio le gambe alla morte con la falce e lacrime faccio la croce con la falce sotto il letto dal demonio sei protetto e mettevano per mentre dicevano tutto questo mettevano per l'appunto questa falce sotto il letto con la lama per così cioè nel senso che la lama veniva verso il fondo del letto oggi come oggi e per l'appunto falci ne abbiamo più non abbiamo più e comunque quella era una forte protezione e soprattutto diciamo augurava un buon matrimonio e andava a proteggere per l'appunto il tutto allora altre cose da dire saltiamo alla forbice la forbice se cade per terra non è buono ma se cade per terra e noi prontamente ci mettiamo direttamente il piede sopra diciamo che fa da scongiuro quindi abbiamo bloccato questo presagio prende un presagio di malassorte mettendoci il piede sopra andiamo a fermare questo presagio se la forbice cadendo dovesse rimanere conficcata nel pavimento ahimè si dice che presagio di morte e lì non si può manco mettere il piede sopra perché non si può ok allora torniamo al letto ah no non torniamo al letto altra cosa le forbici proprio per il fatto che tagliano tenere delle forbici aperte va bene quindi all'ingresso di casa fuori di casa il chiodino con appesa una forbice così proprio appesa allo stipite della porta teneva distanti le madelingue allo stesso modo una forbice messa appoggiata così sul davanzale verso l'esterno fa un po l'effetto dei chiodi che abbiamo detto l'altro giorno va a pungere ciò che potrebbe entrare in casa quindi e soprattutto questo c'è il chiodo punge e le tiene distanti questo qui punge e la forbice aperta cosa rappresenta adesso io la tengo per così perché per così non lo vedreste e è pronta a tagliare praticamente quindi cosa succede la forbice aperta in questo modo qui sdraiata faccio vedere così verso l'esterno cosa fa va a pungere innanzitutto e taglia le malelingue che eventualmente entrano in casa al che le forbici sotto tra rete materasso che anche io dico sempre se avete una volta c'erano le reti quindi si appoggiava la forbice in questo caso va appoggiata nel senso se io dormo con la testa qui e i piedi la va messa verso i piedi aperta ma verso i piedi così da sola già va a creare una sorta di protezione e anche perché perché di notte e quando siamo più vulnerabili dormiamo siamo diciamo assenti non abbiamo non so anche fatto di ridere scherzare essere positivi cioè quando siamo inermi quindi siamo lì tranquilli e se qualcuno ci vuole fare un maleficio ce lo può fare quindi con le forbici aperte così non vanno a proteggere da cose ingerite anche se di notte lungo direte non si mangia ok quindi e nemmeno da quando si calpesta quelli sono altre cose che vedremo poi e quindi si alza il materasso tra rete materasso a come dicevo di vago oggi come oggi non abbiamo più la rete una volta si appoggiava sulla rete si era sicuri che non cadeva oggi come oggi quasi tutti abbiamo un letto a doghe quindi in caso si prende un anche un giornale un cartecco l'ideale sarebbe un cartoncino come al solito senza scritto niente in mancanza dei cavalli trottano i buoi anche un giornale per dire ma proprio lì io preferisco piuttosto un pezzo di un cartone un pezzo di cartone bene o male prima dopo arriva in giro per caso un pezzettino di legno e l'appoggiate così al sopra appoggiate così sotto tra rete materasso almeno non siete sicuri che non cade tra una doga e l'altra allora mettendo si vede se più o meno si vede la forbice così sotto il letto siete già protetti per avere un ulteriore protezione questo si può fare sia con dei chiodi che con degli spilli si vede lo spillo si vanno bene spilli spilli non aghi lago cuce va a saldare cioè lui invece vi serve una protezione quindi spilli e occhio di se lo spillo va bene semplice lo spillo normale senza senza test cioè senza testa quelli con la testa di spillo via nel senso di e di metallo van benissimo che sono quelli diciamo neutri non hanno non hanno colorazione se no o lo spola punta nera o la punta rossa quindi a quel punto cosa fate vi direzionate che sapete non so dove l'alba per dire io in questo caso l'est ce l'ho lì quindi mi dici si direi direzione a est e si punta adesso vi faccio vedere il primo spillo così a est si vede poi prendiamo il secondo spillo il primo a est il secondo a sud e puntate l'altro spillo quindi se si vede questo qua il primo questo il secondo e lo puntate così si vedono se poi est sud ovest andate a puntare il terzo spillo quindi così a puntare il terzo spillo quindi così si vedono tutti e tre io sono mezza cercata come sempre sì ecco basto sul rosso che quindi est sud ovest stessa cosa andate poi a prendere il quarto spillo e lo puntate anche con la mano sinistra posso fare ben poco sono un pericolo poi sapete perché sono un pericolo perché non voglio usare gli occhiali mi dimentico gli occhiali e rimetto lo spillo di prima perché sono riuscito a sfilarlo l'altro spillo lo puntate a nord quindi ora sono stata a girare maneggiare voi lo tenete fermo in una posizione vi mettete dritti così io adesso di fatto l'est e la est sud ovest nord e rimarrà uno spicchio di allo spicchio taglio con la buccia e rimarrà una croce a quel punto prendete il quinto spillo e lo puntate dall'alto nel centro che praticamente questa è una protezione ai dai quattro punti cardinali quindi ai quattro lati del mondo e anche dal centro del mincio e dall'universo dal centro dell'universo quindi sono protetta diciamo da tutti intorno e anche da sopra e dove si posiziona questo semplicemente all'interno delle forbici quindi voi lo vedrete così crede sì quindi le forbici aperte così verso i piedi del letto lo spicchio di aglio nel mezzo quindi questo va a creare come dire una bolla di protezione intorno al vostro letto adesso non mi magari c'è gente che mi dice ma io in casa c'è solo un paio di forbici poi cosa faccio ogni volta che mi servono devo andare alzare il letto prenderle allora in quel caso lì si prendono due coltelli coltelli bene o male in casa ne abbiamo tutti il solito ce ne sono via e a quel punto cosa si fa si mettono due coltelli così a croce che vanno a simboleggiare alla forbice giusto e fate lo stesso discorso i due coltelli aperti ecco anche lì allora oggi come oggi molti coltelli sono di plastica come regola l'ideale sarebbero quelli tipo diciamo da pizza tutti in ferro oppure questo genere di coltelli qui con questi qua di legno di una volta via sono belli vecchietti e si posizionano così sotto il vetto incrociati con le due lame l'importante che le due lame non so se vedete adesso qui c'è il segreto e qui anche due lame così si vedono si intravedono le due lame dal verso che vanno a tagliare e a quel punto di nuovo lo spicchio d'aglio nel mezzo allora lo spicchio d'aglio va a proteggere anche se avete tipo le un'entità per casa ecco che rompe le scatole naturalmente viene utile mettere l'aglio se non avete entità per casa l'aglio potete anche farne a meno perché da diciamo se non siete proprio sotto attacco forte bastano anche i due coltelli o la forbice e direi che vi ho detto tutto allora non so se torno non so per adesso c'è la pasqua avremo tantissime cose da fare uscire fare le grigliate sul balcone e non scherzo saremo a casa tutti quanti faremo appunto le grigliate sul balcone uscire usciamo e comunque vi auguro buona pasqua nel caso che non riappaio ma non è detto che non riappaio quindi magari vi faccio gli auguri di pasqua in più video non lo so ancora comunque come sempre io baci mi piace darli ormai l'avete capito un bacione a tutti tanti auguri a tutti qua ci voleva il bacio tanti auguri di buona pasqua speriamo appunto in questa questa rinascita anche per appunto non solo noi a livello di di visto che siamo stati tanto in casa molti appunto a pensare quindi rinascere noi proprio come dire mentalmente si può dire così cioè di elevarci anche noi in questa pasqua e la rinascita appunto anche del pianeta perché si è ammessi appunto non troppo bene quindi speriamo appunto in una rinascita diciamo generale semplicemente no vi saluto per davvero ciao